Arrivano finalmente buone notizie da parte dell'ANAS sulla riapertura di ponte San Gabriele a Teramo in entrambe le direzioni. L'azienda dopo diversi solleciti ha risposto all'amministrazione comunale comunicando che la fine dei lavori sul ponte, punto nevralgico per la viabilità interna, verrà entro il 20 di ottobre. Grande soddisfazione da parte dell'assessore ai lavori pubblici Giovanni Cavallari che nei giorni scorsi aveva chiesto un intervento anche da parte del prefetto. Sì sicuramente l'interlocuzione con il prefetto probabilmente ha sortito l'effetto giusto nel senso che abbiamo ricevuto questa nota da parte di ANAS che ci indica come data ultima il 20 di ottobre. Devo dire pure che l'altro giorno ho ricevuto una telefonata che mi ha rincuorato perché mi hanno indicato anche che forse c'è la possibilità di farlo riaprire qualche giorno prima. Speriamo che questo possa avvenire. Avremmo preferito riaprire il ponte prima della riapertura delle scuole a fine settembre. Adesso è andata così. Sono pochi giorni che ci separano da questa data fatidica. Speriamo che si possa verificare perché intanto sul ponte San Gabriele possa tornare la tranquillità, la normalità del transito dei mezzi in entrambe le corsie. Ricordiamo che sul viadotto da oltre cinque mesi si transita su una sola corsia a senso unico in direzione Piazza Garibaldi. L'intervento al quale attualmente è sottoposto riguarda principalmente il rinforzo dei giunti ma rappresenta solo una parte dei lavori post-sisma che negli ultimi tre anni si sono susseguiti e che hanno visto il ponte più riprese e chiuso percorribile in modo parziale. Ovviamente l'auspicio del comune è anche quello di vedere completati il prima possibile i lavori nella vicina Piazza Garibaldi. I lavori di Piazza Garibaldi adesso stanno andando in modo spedito e la ditta sta lavorando. La stessa ditta che è stata incaricata da noi, che si è giudicata la gara, è stata incaricata dall'acquedotto del Ruzzo per fare i lavori su queste condotture che è in qualche modo il trasudo delle condotture. Subito dopo procederanno l'ultima azione dei lavori e speriamo che nel giro di poche settimane anche lì si possa tornare alla normalità. Devo dire che il cantiere di Piazza Garibaldi riduce di una corsia Piazza Garibaldi con un problema anche in quel caso, con una difficoltà per il transito dei mezzi. Ma nello stesso tempo la riapertura di Ponte San Gabriele sicuramente aggiorerà il deflusso in entrata e in uscita per Piazza Garibaldi. Quindi già il 20 potremmo avere una prima iniezione di fiducia per poi successivamente procedere con Piazza Garibaldi.